Ecco qua un Sinclair Quelle. Quanti di voi ne hanno sentito parlare? Quanti di voi ci hanno lavorato sopra? Forse pochi. Però penso che a tante persone, se sono interessate al mondo Sinclair, ne vorranno sentir parlare e magari avere la possibilità di approfondire alcuni argomenti. Ecco, ne avete la possibilità. Perché? Sono lieto di presentare il quindicesimo, ecco la locandina, quindicesimo meeting italiano del Sinclair Quelle, che si terrà a Modena il 14 ottobre. Sarà un'occasione poterne parlare, poterne condividere con altre persone le proprie esperienze, se abbiamo lavorato sul Sinclair Quelle, oppure chiedere informazioni, ampliare i propri orizzonti su questa macchina, che è una bellissima macchina, che ha una grande programmazione e, perché no, vedere anche dei nuovi hardware che sono stati sviluppati su questa macchina, oppure nuove tipologie di programmi sempre sviluppati su questa macchina. Dovete sapere che il mondo Sinclair Quelle non è un mondo fermo, in realtà è sempre stato in movimento. Il Sinclair Quelle è sempre stato una macchina che è rimasta nei cuori di tante persone e ogni anno si aggiungono nuove persone che incominciano a imparare a programmare anche sul Sinclair Quelle. Quindi, vi rinnovo il quindicesimo meeting per il Sinclair Quelle italiano del 14 ottobre 2018 a Modena. Orario dalle 10 alle 17, ingresso è libero. Io sarò presente probabilmente in modalità virtuale perché ho alcuni piccoli impegni, però sicuramente sarò presente e ascolterò anche io. È un evento molto particolare, sono molto contento che esistano questi eventi, anche se di una macchina specifica come il Sinclair Quelle e sicuramente in questi luoghi, se volete avere informazioni o sfatare alcuni miti o capire alcune cose sul Sinclair Quelle, meglio che qui tra appassionati non ci potrà essere posto. Quindi, vi invito ancora al quindicesimo meeting del Sinclair Quelle che si terrà a Modena il 14 ottobre. Mi raccomando, andiamo numerosi, cerchiamo di essere tutti insieme e condividere questa passione che è il retrocomputer. A presto!